Qua c'è il solito Anthony che si fa i video da soli, un attimo. Video, video, siamo all'aeroporto di Catania. Ma hai accendato cosa? Io andavo su Youtube. Siamo all'aeroporto di Catania. Ora ti facciamo una foto con le scale mobile. C'è tutto il motore. C'è tutto il motore. C'è tutto il motore. Questa era per Alessandra. Allora stai con la faccia di vedere. Vero. Io famo l'uoccia. Super, super. Scandale. Corso che L'uoccia e chi non so. Scandale è? Il libro tu è? Guarda Poizioni che le sono cioè... Copi importante ori? 系ia che diverse a spiegare i miei libri è colobiano L'alena dello Spinelli Non è foto, è visto Ciao C'è una panoramica della situazione Mi sono perso Mi stavo perdendo di nuovo Tu sai i tuoi video diari Allora io voglio aggiungere la mia piccola cosa del video diario Ci sono delle cose Ci stiamo apportando 5 euro al turista per sempre Vediamo che il Forco Grosso è andato a prendere un altro turista per sempre Perché abbiamo avuto 5 euro La presa per il culo con le dimensioni bibliche Ma tra quanto partiamo signor Spinetti? Praticamente dovranno fare il cittadino adesso Cos'è? Un video diario Un video blog Un video blog Per il sacro blog Ti salvo io Non era per niente Mi sento bello Mi sento un piacere Mi ha fatto una giapassiata Allora te lo sappiamo Arrivati il filo di Martino Lombardo che è contentissimo per la sconvitta dell'Inter Un canno di origine Un canno di ricoccia Un canno di ricoccia 5 euro questa cosa Ecco come facciamo Ci vogliono guadagnare molto Per esempio 5 euro 5 euro un gannolo all'aereo che caccia con il tramonto e sta tramontando tutti c'è un professore scherzone stiamo per partire scombastolo di Martino scombastolo di Martino scombastolo di Martino faccio il voce qua abbiamo una screzzone a te piace la screzzone a te piace la screzzone ciao matti un niente Martino scombastolo a te piace la screzzone no no ma non ho capito che scuola c'è un motore eh non mi dovete chiamare stiamo per partire c'è troppo caldo becciso c'è Daniele che si sciarria si è saluto in mezzo alla sera beato tra le donne che sciarriano caldo c'è questo scherzone è scherzone buono è scherzone allora è scherzone è rotto è scherzone buono ragazzi qui il vostro Anthony che vi parla siamo sull'aereo guardate che bello l'Etna che siamo partiti lo vedete ora che faccio lo zoom questo è l'Etna ecco ecco un voto d'aria qua sotto c'è il motore l'elica siamo al buio guardate l'Etna che bella bello 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 questa cosa rossa che si vede nello schermo è il riflesso della fotocamera ecco le luci buongiorno 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 c'è voglia di parlare no prima a Praga italiani con c'è William non ci credete cioè stai con Bulgaria pure a Praga ormai siamo internazionali minchia c'è la carta di identità io si ma qua non ti vede più niente quindi vabbè volevo dirvi che ci stai con Bloch 3 a Praga ci guardano male perché cazzo te ne ho fatto comunque il bello è stato prendendo nel cuorino poi c'è un bordello quando ne vede domani c'è un'azione domani sera forse qua e poi non ci vediamo vabbè poi c'è la carta di effetto sacro Bloch ci stiamo facendo lì il massaggio vieni qua faccio il video che vuole vieni qua troppo grosso 5 minuti mi stanno morendo aspetta come vuole o vieni qua ma che c'è la ricca te ma è che la fai lo zoom ma è che la fai ma è che la fai vieni qua 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 non so, sappiamo il piscino ah oh dai 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 ti sei vingato ti sei detto ah che dai cric... ah hai No, no, no. Grazie a tutti 10 corone Ragazzi nel strato il blog bella ficco nel sedere Ci vediamo dopo, ciao